Il ritorno in famiglia Il vostro dolore sta per essere sciolto, magari con la bocca Così si potessero sciogliere anche gli altri fardelli che pesano su voi e su noi tutti Faremo del nostro meglio tutti insieme Le donne di Calabria sono le messaggere, le avanguardie delle madri, delle spose, delle sorelle Che ritroverete nelle vostre case Guardatele, vi rassicurerete Chissà quante calunni avrete sentito sulle donne d'Italia Non è vero?